Inizia ora, fratelli e sorelle, la seconda parte di questo momento di preghiera, l'adorazione della Santa Croce. Anche questo momento, quest'anno, sarà vissuto in modo un po' diverso. Soltanto io bacerò la Croce e lo farò a nome di tutti, i pochi presenti qui in cattedrale e tutti quanti voi che siete a casa. Davvero, attraverso questo gesto di affetto e di tenerezza che io farò sulla Croce, sentitevi rappresentati. Il mio bacio è il vostro bacio. E proprio per indicare con un segno la vicinanza del Signore crocifisso a ciascuno di noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, dopo il momento dell'adorazione della Croce uscirò all'ingresso della cattedrale e farò un segno di Croce che simbolicamente è una benedizione per ogni vostra casa, per ogni vostra comunità, per ciascuno di voi. Ecco il legno della Croce, ecco il legno della Croce, ecco il legno della Croce. Ecco il legno della Croce, ecco il legno della Croce. Ecco il legno della Croce, ecco il legno della Croce, ecco il legno della Croce. Ecco il legno della Croce, ecco il legno della Croce, ecco il legno della Croce, ecco il legno della Croce. Ecco il legno della Croce, 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 ecco il legno della Croce. Grazie a tutti. Grazie a tutti.